buongiorno il salmo 118 comincia con queste parole celebrate il signore perché lì è buono perché la sua bontà dura in eterno si dica israele la sua bontà dura in eterno si dica la casa di aronne la sua bontà dura in eterno si dicono quelli che temono il signore la sua bontà dura in eterno vorrei notare che la caratteristica principale di dio quando pensiamo a dio la sua bontà emerge è importante sottolineare questo perché oggi chi sostiene che dio un dio d'amore un dio buono viene spesso criticato come buonista come persona che non capisce la realtà di dio perché lì è anche un fuoco consumante è un dio di giudizio è un dio giusto è un dio come dire vendicatore io credo che noi dobbiamo avere come base quello che dice questo salmo che la bontà di dio dura in eterno e come lo possiamo vedere questa bontà beh se noi guardiamo bene questo inizio del salmo noi troviamo che il salmista invita israele a dire che la sua bontà dura in eterno la casa di aronne che la sua bontà dura in eterno e poi tutti quelli che temono il signore ma è significativo questo fatto che il salmista invita israele a riconoscere la bontà di dio ora israele la sua storia fa vedere tutti gli aspetti di dio fa vedere la rabbia di dio l'ira di dio fa vedere l'abbandono di dio fa vedere se vogliamo la vendetta di dio fa vedere queste cose ma israele fa vedere soprattutto la bontà di dio perché oggi nonostante i suoi molti peccati nonostante i gravi peccati ancora dell'israele di oggi dio è buono verso israele e questo è la garanzia che dio è buono allora se guardiamo la storia di israele ma se guardiamo anche la nostra vita vediamo momenti di prova momenti di difficoltà momenti di smarrimento ma sopra ogni cosa c'è la bontà di dio ora questa bontà non dipende da quanto siamo bravi buoni obbedienti e santi noi questa bontà dipende unicamente da come fatto dio dio è buono un altro esempio della bontà di dio è quando lui fa quella promessa in esodo 20 nei dieci comandamenti che la sua bontà dura fino alla millesima generazione e la sua ira fino alla terza o la quarta cioè capite quanto è sbagliato dire che dio non è buono che dio è un dio vendicatore che dio è un dio di rabbia la base della nostra comprensione di dio è che dio è buono e questo ricordalo nella tua vita magari tu stai passando momenti in cui non ti sembra che dio sia buono magari stai passando momenti in cui le prove sono così forti che ti è difficile capire che dio è buono ma alla base di tutto di tutta la nostra comprensione di dio alla base della nostra giornata con dio alla base della nostra vita con dio c'è il fatto che egli è buono che ci ama di conseguenza ed è buono verso noi non vuol dire che ci permette ogni vizio non vuol dire che ci permette e gode del peccato vuol dire che è buono ossia vuole il nostro bene ed ogni momento lavora per il nostro bene esattamente come ha fatto con israele e noi faremo e noi dobbiamo solo lodarlo e ringraziarlo perché è straordinario questo pensiero celebriamo il signore perché egli è buono e la sua bontà dura in eterno non la sua cattivere la sua ira la sua bontà dura in eterno dio è buono anche oggi per te dio ti benedica